La pagina evangelica che la liturgia ci presenta quest'oggi si conclude con delle parole molto consolanti. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Sono parole consolanti perché ciascuno di noi, iniziando dal sottoscritto, rientriamo in questa categoria. Nessuno può esimersi da questa categoria, ma tutti quanti siamo peccatori invitati a godere e a beneficiare dell'amore misericordioso del Signore. Quindi nessuno è escluso da questo invito e neanche il famoso buon ladrone, accanto a Gesù, che all'ultimo momento con la sua apertura di fede a Gesù, ecco, riesce a strappare in un attimo addirittura al primo posto nel Paradiso. Oggi sarai con me nel Paradiso. Ecco, pensiamo un attimo, quest'uomo all'ultimo della sua esistenza con fede si apre a Gesù e si sente dire oggi sarai con me in Paradiso. Ed era un ladrone e non aveva tempo di cambiare vita, di redimersi, solo di offrirsi così come era, ma in un atto di fede totale e pura a Gesù che riconosceva in quel momento colui che per noi ha dato la vita. Ecco, cari fratelli, la nostra liturgia si apre proprio con questa immagine, con queste parole e Gesù nel Vangelo di Giovanni aveva già manifestato le sue intenzioni. Riascoltiamole insieme che sono molto belle. Io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Gesù vuole che viviamo tutti nella luce. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno perché non sono venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo. Non è venuto non sono venuto per condannare il mondo ma per salvare il mondo. Forse ancora qualcuno di noi ha un'idea di un Dio che punta al dito ed è lì come il grande fratello per cercare dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo fallito. Ebbene Gesù stesso ci dice non sono venuto per condannare ma per salvare. Non sono venuto per puntare il dito ma per accogliere il tuo peccato, il tuo pentimento, per distruggerlo e per donarti solo la salvezza e la vita. Ecco la storia dell'Apostolo Matteo che oggi celebriamo è una di queste storie dove il trionfo dell'amore misericordioso del Signore ridona una vita nuova a quest'uomo. Matteo come Zaccheo di Gerico era un esattore delle tasse per conto dei romani e quindi un collaborazionista del potere dominante dei romani. Di Zaccheo si dice che era capo dei pubblicani e ricco. Forse lo era anche Matteo, capo dei pubblicani e ricco, non lo dice il Vangelo. Però essendo pubblicano si può immaginare. Comunque entrambi riscuotevano con spregiudicatezza di più di quello che il governatore romano richiedeva, riempiendo così le loro tasche. Quindi dietro quel denaro c'erano le grida della giustizia che si elevavano e che arrivavano sino al cielo. Oggi, come diremmo, era denaro sporco. Era una persona che guadagnava sulle spalle dei poveri cittadini di Gerico. E Matteo faceva lo stesso mestiere, lo stesso lavoro. Ora, che cosa succede? Che per Zaccheo si dice che Gesù doveva passare di lì. È un dovere teologico, vale a dire che la volontà di Dio è quella di incontrare il peccatore. Dio non passa da altre parti se non dalla mia parte, dalla mia via. Viene a cercarmi. E nel Vangelo di oggi si dice che andava per via. Quale via? È la via del buon pastore che va in cerca delle pecorelle smarrite. E questo noi dobbiamo sentirlo per ciascuno di noi. Gesù è sempre in cammino. Il Vangelo dice che Gesù, ecco, passava per ogni villaggio, paese, villaggio, annunciando il Vangelo di Dio per dire e dare questa misericordia. E allora passa continuamente nella mia città, nel mio paese, bussa la mia porta, suona il mio campanello. Dice l'Apocalisse in quelle espressioni così belle. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò e cenerò con lui ed egli con me. Che parole belle. Gesù sta sempre alla porta del nostro cuore e mi bussa. La possibilità dell'apertura ce l'ho io, è la mia libertà, la mia volontà, il mio riconoscere che alla porta c'è un viandante, un pellegrino divino, che c'è l'amore di Dio che non desidera altro che incontrarmi e perdonarmi e cenare con lui. Gesù chiamando Zaccheo e chiamando Matteo e quindi qualsiasi uomo, ciascuno di noi, ci salva, ci toglie dal marciume in cui siamo sprofondati e nello stesso tempo toglie il marciume che è dentro di lui e dentro ciascuno di noi. Però dobbiamo anche dire grazie a Matteo, come ad altri apostoli, che ci danno il loro esempio di come si risponde alla chiamata di Dio. Dice infatti il Vangelo che egli si alzò e lo seguì. Alzarsi è un verbo di risurrezione ma indica la prontezza di quest'uomo. Non aspetta, non ci pensa sopra, coglie nell'invito di Gesù l'invito degli inviti, la proposta delle proposte, quella che ti cambia la vita, quella che non puoi dormirci sopra, non puoi stare seduto. Matteo ci insegna e ci ricorda come si deve rispondere alla chiamata del Signore, a uscire dal nostro torpore e dalla nostra mancanza di amore e di generosità che ci tiene inchiodati nel rimandare continuamente l'esigenza della conversione. Però bisogna anche notare questo, che l'iniziativa di Gesù e la pronta e generosa risposta di Matteo provocano un fluire di persone che si recano a casa sua per incontrare il Maestro. Dice infatti il Vangelo sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui. Allora il particolare desiderio di Gesù si esprime proprio in questo, nell'amare di condividere con loro, quindi con noi, l'intimità della mensa. E sappiamo che noi invitiamo le persone, non i nemici, ma le persone care, gli amici. Eppure Gesù invita i Suoi nemici, i Suoi accusatori, noi. E della grazia di Dio tante volte la calpestiamo, la sputiamo. Non ce ne importa nulla. Eppure Gesù ama condividere con noi. Non certo condivide il nostro stile di vita, ma per farci sentire il suo amore infinito e per poterci attrarre a sé. Allora come non riconoscere in questo suo desiderio ardente di donarsi continuamente a ciascuno di noi nel mistero della Santissima Eucaristia, dove Egli diventa uno con noi. Quella Eucaristia che ci stiamo celebrando. Tra poco il Signore si unisce e diventa uno con noi, come Egli è uno col Padre e lo Spirito Santo. Gesù si presenta anche come medico delle anime e dei corpi. Dice infatti, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Come aveva predetto già il profeta Ezechiele, aveva detto, ecco io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò l'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Tutti noi abbiamo bisogno del medico divino, delle malattie del corpo e dello spirito. Abbiamo bisogno di essere risanati profondamente da quello che è la malattia più grande, che è la radice di tutte le malattie, che è il peccato. Allora il medico divino vuole sanarci, ma noi dobbiamo, come è nella dinamica, nel dialogo tra medico e paziente, abbiamo la necessità di prendere consapevolezza delle nostre malattie spirituali, dei nostri peccati e di manifestarli con fiducia al medico e di ricevere dal medico con altrettanta fiducia la terapia. Ecco anche Padre Pio si sentiva una creatura perdonata, amata e perdonata e proprio per questo, alla maniera come San Matteo desidera fare della propria vita un esempio e una proposta per tutti. Dice infatti San Pio, Gesù ha voluto fare di me un esempio di grazia e propormi ad esemplare a tutti i peccatori, affinché non disperassero della loro salute. Ecco quanto detto finora, in questa riflessione sul Vangelo, ci mostra il cuore misericordioso del Signore. E nella imminente veglia che celebreremo la notte prossima ci sarà mostrato il cuore di San Pio alla nostra venerazione e alla nostra preghiera. Ed è proprio da quel cuore che Gesù ha trasformato, che Gesù ha fatto suo, tanto da diventare una cosa sola, il cuore di San Pio, il cuore di Gesù, che anche noi chiediamo a Gesù per intercessione di San Pio di donarci un cuore nuovo, cioè un cuore compassionevole, misericordioso, capace di vivere la legge nuova di Cristo come ha vissuto San Pio e che ci ricorda San Paolo. Il sacerdozio, la chiave di lettura del sacerdozio e della vita cristiana di San Pio sta tutta qui. Quanti pesi ha portato San Pio di tutti noi, di ciascuno di noi. E ha adempiuto la legge di Cristo e si è fatto santo e ci ha mostrato quello che dobbiamo fare anche noi, ognuno nella propria vocazione. San Pio ha fatto sua la dimensione totalizzante ancora di San Paolo, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. Essere prigioniero del Signore, prigioniero d'amore con Gesù crocifisso per la salvezza delle anime, per la salvezza del mondo. Paolo si considera un prigioniero, prigioniero della volontà di Dio, prigioniero dell'amore di Dio. Dal momento che aveva ricevuto il cuore di Cristo, il cuore di San Pio era prigioniero di quell'amore infiammato di Dio. La prima volta che San Pio manifesta l'esigenza di immolarsi per la salvezza dei peccatori che lo fanno tremendamente soffrire è dopo la celebrazione eucaristica della sua prima Santa Messa, il 14 agosto del 1910. Per la circostanza scrive il suo pensiero ricordo. La sua offerta è fondata su un profondo sentimento di amore e di umiltà che valorizzano pienamente la sua vocazione. Dice San Pio Gesù, mio sospiro, mia vita, oggi, che trepidante ti elevo in un mistero di amore con te, io sia per il mondo via verità e vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Ecco, allora San Pio condivide la mensa dei peccatori, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di Gesù, offrendo continuamente se stesso a Dio nella celebrazione della Santa Messa e nelle infinite ore ad ascoltare e a dispensare la misericordia di Dio nel confessionale. Come nel Vangelo, i pubblicani e i peccatori del suo tempo e di ogni e di oggi, attratti dalla presenza di Cristo crocifisso vivente in Lui, continuano a sopraggiungere e a mettersi a tavola con Lui. E tutti noi siamo testimoni, siamo anche noi, quei peccatori, che si mettono a tavola con Gesù e con San Pio. E concludo con una preghiera che San Pio fa, sempre di offerta di se stesso, che innalza al Signore dopo la celebrazione della Santa Messa. Dice, o Signore, ti supplico di volere versare sopra di me i castighi che sono preparati ai peccatori e alle anime purganti. moltiplichi pure sopra di me perché converta e salvi i peccatori e liberi le anime del purgatorio. Allora, cari fratelli e sorelle, chiediamo, dopo aver ascoltato queste ultime parole di San Pio, la grazia veramente per ciascuno di noi. Impariamo anche noi a portare i pesi gli uni degli altri e particolarmente una preghiera per noi sacerdoti, perché l'esempio sacerdotale di San Pio ci aiuti a penetrare ancora più in profondità e a vivere in pienezza la nostra vocazione sacerdotale.